Le arti marziali le hai sposate proprio come stile di vita, perché hai fatto quella che molti direbbero forse una follia, no? Assolutamente sì. Hai lasciato il tuo lavoro e hai deciso di aprire una palestra. Assolutamente sì, io come ti ho detto ho pratico dall'età di 14 anni, ho quasi 50, sì che insomma un bel pezzo di vita gliel'abbiamo data, le arti marziali. E ho fatto le attività lavorative più svariate, sono stato per un periodo nell'esercito, poi ho lavorato anche nel vostro settore dopo la laurea come giornalista per 4 anni. E le arti marziali erano sempre state una cosa a cui mi dedicavo la sera dopo lavoro fondamentalmente, nei fini settimana. Poi c'è stato un periodo in cui lavoravo come impiegato, come funzionario presso l'amministrazione provinciale, a un certo punto però cominciavo ad avere 32, 33 anni e ho detto cosa voglio veramente? Voglio continuare a stare tutto il giorno in un ufficio, a fare una cosa che sì, mi dà una sicurezza, ma non mi fa esprimere ciò che voglio, non mi fa realizzare come persona o voglio provare a fare la pazzia, come hai detto giustamente, di andare a secondare quello che è il mio desiderio? Ho detto, si vive una volta sola, proviamoci a smettere, siamo sempre in tempo e si sta festeggiando il quindicesimo anniversario dell'associazione, quindi l'associazione è nata fondamentalmente e poi lo ringrazierò sempre nel sottochiesa di piazza San Gimignano che ci venne concesso, poi ne sai qualcosa perché sei stata anche te una nostra allieva per alcuni anni. Svegliamo questi retroscena. E quindi grazie a Don Francesco Bernardini che era il nostro parroche, che ci mise a disposizione un ambiente rimesso a nuovo da noi fondamentalmente, un vecchio teatrino parrocchiale che poi divenne palestra, ci fu un periodo iniziale in cui eravamo nella palestra della scuola 4 novembre a Saione, ma era una condizione veramente, veramente disagevole per poter portare avanti un'associazione sportiva. E quindi abbiamo avuto prima quest'inizio, poi dopo quasi dieci anni fa, nel 2014, si è deciso di fare un salto di qualità ancora, prendendo, potendoselo permettere, un fondo nostro, adattandolo e creando proprio una scuola che fosse aperta praticamente tutto il giorno, a disposizione tutti i giorni, tutto l'anno. Noi credo siamo tra gli unici in Italia che non si chiude neanche per il ponte di Ferragosto. Ho voluto creare, come ti dicevo, la scuola che avrei voluto poter frequentare io da ragazzo, dove puoi venire tutti i giorni, senza limiti, senza pagare supplementi. È una cosa che mi piace specificare perché noi siamo veramente un'associazione. Da noi paghi la quota associativa e quella dà tutti pari diritto e pari accesso a qualunque attività, senza richiedere extra niente, e dove si può andare a qualunque ora del giorno. Noi siamo aperti dall'ora di pranzo all'ora di cena e l'allievo, anche a seconda delle disponibilità o della voglia che ha, può venire il giorno alle due, può venire la sera alle sette, in modo da anche non perdere una lezione. Io, come dico sempre, il limite che abbiamo noi è la volontà di imparare e la voglia di fare. C'è chi viene quelle due volte alla settimana standard perché gli basta, c'è chi ha voglia di crescere di più che viene tutti i giorni, c'è qualcuno che ha la possibilità di farlo per motivi di lavoro di studio, che magari viene anche dalle due e ci sta fino alle otte e mezzo la sera, insomma. Qui noi, come ho detto, l'unico limite che diamo è la volontà di ogni singolo di imparare e di crescere.